Ora per Gianghe l'Inter arriva alla fine ufficiale. La sentenza del Tribunale di Milano è una stangata che mette KO il presidente Nerazzurro. Guarda tutto il video per capire i dettagli della situazione debitoria dell'Inter. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Una morsa finanziaria si stringe attorno a Steven Gianghe, di riflesso, sull'Inter. La recente decisione della Corte d'Appello di Milano ha reso esecutiva la sentenza del Tribunale di Hong Kong, confermando un debito di ben 320 milioni di euro verso la China Construction Bank. Questo significa che la banca potrebbe ora rivendicare il credito anche in Italia, mettendo potenzialmente a rischio i beni del presidente Nerazzurro e, di conseguenza, l'Inter stessa. Tuttavia, al di là di questa drammatica situazione finanziaria personale di Gianghe, l'Inter sembra un momento al riparo da questa tempesta. Ma la tempesta è più vicina che mai. Gianghe non possiede direttamente beni in Italia e anche i tentativi di pignorare eventuali stipendi, come presidente del club, sono stati vani, perché Gianghe non riceve alcun compenso. Ma se l'Inter sembra, almeno per ora, al di fuori di questa crisi finanziaria personale di Gianghe, c'è un'altra minaccia che incombe sul club. Le azioni dell'Inter sono attualmente vincolate, come garanzia per il debito di 400 milioni di euro, con il fondo di investimento OCTRI. Questo debito, in scadenza a maggio, non è stato ancora rimborsato da Gianghe e le trattative per un rifinanziamento con OCTRI non sembrano avere dato risultati positivi finora. La situazione è ormai insostenibile e ormai basta solo contare il tempo prima che tutto questo ricada sull'Inter. E tu, cosa ne pensi di questa situazione debitoria? Secondo te, come riesce l'Inter a continuare a fare acquisti, senza che venga prima sistemata la situazione finanziaria? Scrivi il tuo pensiero nei commenti sotto al video. Se questo debito non venisse rifinanziato, le azioni dell'Inter potrebbero finire nelle mani di OCTRI, mettendo così a serio rischio la stabilità finanziaria e la gestione del club. Quindi, anche se direttamente, l'Inter potrebbe non essere coinvolta nella situazione debitoria personale di Gianghe, la sua incapacità di gestire i suoi debiti potrebbe avere conseguenze disastrose per il club. E mentre Gianghe lotta per trovare una soluzione ai suoi debiti personali, l'ombra di una possibile perdita di controllo sull'Inter continua a scurire l'orizzonte del club nerazzurro, rendendo la situazione finanziaria della squadra ancora più precaria e incerta. Ciao e alla prossima notizia!